Ecco, il sindaco è il primo a visitare la mostra di Arezzo TV, fatta dai ragazzi di Arezzo TV, ma che racconta un po' anche la storia di questa emittente. Trent'anni di storia, insomma, sicuramente non ce lo dobbiamo dire da soli, però ecco, le emittenti locali sono un simbolo di democrazia per tutti i territori. Sono un simbolo di democrazia, ma sono soprattutto una risorsa, no? Soprattutto a livello di informazione, c'è una sola informazione e si rischia sempre di incorrere in errore. Voluto o subito non c'è quella pluralità di punti di vista che è quella che assicura assolutamente il processo democratico. E quindi che a livello di TV locali ce ne siano più di una è molto meglio che ce ne sia una sola. Allora, qui siamo all'interno del fotoclub La Chimera, la scelta non è casuale, i ragazzi hanno fotografato tanti soggetti. Il sindaco ha la passione della fotografia? Sì, assolutamente. Ce l'ho, diciamo che oggi con i telefonini la passione della fotografia è un po' una roba fenice perché si utilizza tutto questo mezzo, molto comodo, tra l'altro molto evoluto, però non si fanno più le foto pensate come si facevano una volta. Io avevo la Rolleiflex e quindi ho fatto delle bellissime fotografie, soprattutto in bianco e nero e ho un bell'archivio fotografico, soprattutto di negativi, che da ragazzo sviluppavo da solo, ora chiaramente è tutto finito. Però sì, non mi piace, l'immagine immortalata con la fotografia mi piace, è una forma artistica interessante. Fatemi solo notare che qui siamo dentro uno dei templi dell'immagine di Arezzo, che è il fotoclub La Chimera, che ha immortalato tante cose, che ha fatto dei bellissimi libri sulla storia di Arezzo, sulla storia fotografica di Arezzo. E ricordo che molti di questi libri il comune li usa, li ha acquistati e li usa come dono nei confronti degli ospiti che vengono a vedere a Arezzo, perché in quelle pagine sono immortalati momenti irripetibili, pezzi di storia della nostra città. E quindi è con orgoglio che dico che il fotoclub La Chimera, senza nulla togliere alla testata giornalistica, è un'eccellenza artistica e storico-documentale di questa città.